Bisognerà attendere per riportare a galla la statua del San Francesco degli Abissi. Il mare Forzaotto non consente le operazioni di recupero, fanno sapere dal gruppo Subacuei Paolano. L'intervento avrà inizio non appena le condizioni delle acque lo permetteranno. E nonostante questo impedimento, la città di Paola è in fermento. La macchina organizzativa infatti si è messa in moto. Proprio di queste ore è la notizia dell'arriva Paola di Michele Zappino, autore della statua bronza del patrono dei pescatori. Appena mi è stata confermata la notizia che l'opera è stata individuata, commenta lo scultore, sono subito partito da Milano per assistere alle attività di recupero e per rendermi conto personalmente delle condizioni dell'opera. Sarà proprio Michele Zappino infatti a restaurare la scultura che dopo essersi incagliata nella rete a strascico di un peschereccio ha perso un braccio. Un tragitto di 200 metri dopo che la statua è stata sradicata dai fondali antistanti della città di Paola fino a raggiungere le acque di Cetraro dove è stata individuata dalla guardia costiera locale grazie ad una boa di segnalazione. Una volta recuperata la statua fa sapere Zappino, verrà trasportata immediatamente a Milano, presso la fonderia dove è nata. Qui il braccio amputato verrà immediatamente refuso e reinstallato sulla scultura. Non mancherò, aggiunge l'artista, di fare un check-up completo a San Francesco degli Abissi, così da appurare che non ci siano altri danni e nel caso ci fossero sistemarli. L'operazione di Ressauro comporta tempi che non supereranno il mese, fa sapere Zappino. Dopodiché i fedeli del patrono della Calabria potranno vederlo tornare nella sua terra per un saluto, prima di immergersi nuovamente nelle acque di Paola, che l'hanno ospitato negli ultimi cinque anni.